Cioè guardate è il nome suo, è il nome suo Ragazzi che cosa è successo? Per capire dovete un attimo ascoltarmi Perché se no non si capisce niente Ho fatto una pubblica, sto facendo una solo v squad Ho killato 5-6 persone e roba del genere A un certo punto mi trovo questa persona Molto molto forte e io ho fatto Ok sono morto Vabbè bene o male, gli sculo un 200 Lo killo, non mi ero accorto di niente A un certo punto mi ritrovo Richiesta di amicizia in arrivo E leggo 100T Mr. Sovage Ho fatto come 3 E così inizia ciò che vedrete nel video E io tuttora Sono abbastanza sconvolto Perché non riesco effettivamente a capire Se è effettivamente Lui o no ragazzi Dovete guardare il video Ovviamente mi scuso per aver giocato Ragazzi perché veramente ho giocato male Ma a un certo punto mi è salita l'ansia Perché io non riuscivo più a capire Se stessi giocato veramente con lui o no Quando guardo a destra Perché stavo guardando il secondo schermo Della registrazione E quindi guardo qui Guardo lo schermo Mi dimentico di guardare a voi Comunque detto questo Fatemi sapere che cosa ne pensate E lasciate un like Ragazzi non so che cosa è successo Cioè ve l'ho spiegato nella intro Allora io ci entro Sono tipo a mille Vi dovete dire secondo voi Che cosa è questa cosa Ragazzi ma è lui veramente Non credo Non è ragazzi Non è È impossibile È impossibile E poi Hi Hello Hello Ha messo creativa Ragazzi ma il nome è quello Allora io prima di tutto Allora mettiamo pronto Io prima di tutto metto il PTT Ragazzi ho messo il PTT Io non so se Allora ve l'ho spiegato Non so ora se questo è un troll O è lui veramente Però il nome è quello Ok ragazzi Io ci provo ma Non lo so Ma secondo me magari è pure un Qualcuno che ha preso il nome Non so se Mr. Swag L'ha cambiato E qualcuno gliel'ha preso Io non capisco Poi io non sono neanche bravissimo In box fight Però Sicuramente Se Mr. Swag Non mi dare neanche il tempo Di giocare Oh man What? Cioè guardate È il nome suo È il nome suo Io non capisco sta cosa Perché mi dovrebbe avere invitato Non è possibile sta cosa Allora È di forte e forte Io Vi ripeto Non è che io sia Il maestro delle box fight Perché non le faccio quasi mai Però Vediamo Cioè già mi prendi i muri Già mi prendi i muri Oh l'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato Ma raga ma come fa A prendermi tutti i muri È suo Questo è suo Vabbè Oh ma stiamo scherzando Ma che è Ragazzi Ma è assurdo Ma che è questo Sto iniziando a pensare Che sia veramente lui Ma Oh l'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato Dai Allora È una Ragazzi Ma chi è questo Non può Perché Non lo so ragazzi Non lo so Io Sto registrando Perché Aspetto un vostro Parere Cioè Non lo so Ma perché Come fa A prendermi tutti i muri Come fa No L'ho pure missato Oh L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato L'ho hitato Via 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 No Allora Io Mi tiro questo Cioè Non mi sono mai impegnato Così tanto Per una box Sì vabbè Io ho paura A pushare Perché questo Mi riprende i muri No vabbè Oh ma No Mi ha messo all'angolo Via Via No T3 Madonna Vabbè ragazzi Ma non riesco a fare niente Cioè Sto giocando di merda Però Ma non so Cioè io l'ho soltanto Killato in pubblica Non capisco perché Mi sta facendo tutta sta cosa Boh Non so che dirvi ragazzi Veramente Non so che dirvi Non so proprio che dirvi Che se uno mi dice Di qualcosa Ok Ok l'ho hittato Non mi ha preso L'ho hittato L'ho distrutto L'ho distrutto No 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 L'ho distrutto Lo devo pushare ragazzi Lo devo pushare L'unica cosa Vabbè No Vabbè dai Oh ma che è invisibile Questo all'occhio umano No Non ci voglio credere Cioè non parla Non dice niente Non so a quanto vuole arrivare Fatemi mettere gli occhiali ragazzi Così Entra in campo Il vero Pepius Ok sto scherzando Non c'è il vero Pepius Non c'è il vero Pepius Non so che dirvi Non so che dirvi ragazzi Non so che dirvi Io ora Mi vado a vedere un video Di Mr. Suoce E vedo Il nome Se è quello 26 gliel'abbiamo tirato 100 Sì 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 Una kill L'ho fatta Andiamo Se è Mr. Suoce Vai Che poi Non so quanti di voi Mi seguono su Instagram Ma tipo un anno fa Io l'ho incontrato Suoce In pubblica Di nuovo E l'ho killato Se trovo lo screen Della Della Partita Perché l'ho messo Nelle storie Ve lo pubblico Ma No no vabbè Oh oh Si è accanito Si è accanito Si è accanito No dai 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 Fermo Fermati bro Fermati Fermati bro Eh questo è una macchina Da guerra eh È una macchina Da guerra Madonna mia Vabbè raga Ma che è Vabbè raga Io non so che fare Non riesco a giocare Non riesco a fare niente Ma chi è questo Cioè è lui veramente Non Non lo so Proviamo un'altra Guarda io non so che dire Abbandonato Raga abbandonato Ma Ma Non ha detto È acquittato Perfetto Io sono senza parole Ragazzi Allora Ma non ce l'ho più Tra gli amici Ragazzi Io non so che dirvi Veramente Non Non so che dirvi Cioè Bo Ditemi voi Chi era questo Io ho fatto solo L'errore Di ucciderlo In pubblica Non so neanche Come è successo Dato che Questo è un mostro Ma secondo voi è il vero Cioè Il nome è quello Io ho visto che il nome è quello Non lo so ragazzi Fatemi sapere voi nei commenti Io Ciao